Ho pensato soprattutto al fatto che non è il quanto vivi ma il come vivi, cioè è una domanda stupida quando uno dice ah è morto tizio, quanti anni aveva? Cioè non è una domanda? Cioè come dire ah ne aveva 90? Allora ah vabbè cosa vuol dire cioè oppure era giovane oppure cioè non vuol dire niente, cosa ti dice in più di questa persona? Niente, cioè è come vivi, quanto intensamente vivi non quanto, io spero di avere il più tempo possibile, sto facendo quello che posso per ritardare il più possibile la mia morte ovviamente perché faccio tutte le cure, quello che devo fare, faccio tutto, il problema che continua a tornare è sto tumore e vedremo quanto tempo avrò ancora, non molto credo ecco.